E' successo a Sochi, in Russia, sulle rive del Mar Nero. Una coppia di amanti focosi, pensavano di essere lontani da occhi indiscreti e si sono lasciati andare sul loro pedalò. La spiaggia era affollata di turisti e qualcuno ha pensato di riprendere la scena, mentre altri erano imbarazzati dallo spettacolo. I due amanti hanno fatto tranquillamente sesso tra imbarazzo e stupore dei presenti.